No, non esiste. Il primo giorno d'ottobre c'è il sole, c'è gente che vuole crescere, vuole lavorare, vuole tornare in Italia a fare dei figli. Quindi è una manovra economica che senza far miracoli aiuta il lavoro e aiuta gli italiani. Aiuta chi vuole andare in pensione per lasciare liberi quei posti di lavoro, aiuta partita IVA, autonomi e artigiani a pagare meno tasse, aiuta chi ha perso il lavoro a provare a ritrovarlo. I dati sulla disoccupazione sono fortunatamente in calo, quindi puntiamo sulla crescita, sulla speranza, sui giovani, sul futuro e non penso che nessuno debba aver paura di un'Italia che torna a correre.